Ben trovati ad una nuova puntata di Terra Valtiberina, parliamo di politica, ci spostiamo a San Giustino e lo facciamo con il capogruppo della centrodestra per San Giustino, Luciana Veschi. Buongiorno. Ben ritrovata. Veschi, dire che la situazione politica a San Giustino è in fermento o dire poco ultimamente? Sì, in realtà in prossimità delle imminenti se vogliamo elezioni vedo che ci sono diversi movimenti da parte di singoli individui, soprattutto a livello individuale. Non vedo un movimento di partito, quindi vedo singoli movimenti, quindi questo significa che forse ci stanno scatenando diversi appetiti. Può incidere Veschi il governo di larghe intese deciso a livello nazionale che ha spostato molti equilibri e che ha fatto sì che anche in Valtiberina e soprattutto a San Giustino, lo ricordiamo maggio barra giugno sarà il termine in cui San Giustino andrà a votare, ha fatto, come lei dice, crescere appetiti soprattutto dalla parte della sinistra. Sì, probabilmente un'influenza c'è stata, ormai comunque si è anche compreso che il partito verticistico ha un condizionamento che è andato nell'evoluzione temporale un po' praticamente venendo meno. Quindi l'importanza del partito, soprattutto come era vissuta da noi, per quanto riguarda, mi riferisco al PD perché noi comunque non abbiamo mai avuto un attaccamento praticamente come magari altri esponenti, si sta un po' scemando, vuoi per un evolversi anche culturale dei singoli componenti che lo rappresentano, vuoi perché comunque sia ci sono anche dei individualismi che vogliono in effetti affermarsi. E' anche un'evoluzione se vogliamo antropologica, di natura proprio sociale, cioè ormai il condizionamento del partito e l'uomo di partito al vertice, magari la cosiddetta testa di legno, perché comunque sia dietro alla testa di legno si muovevano sempre elementi di maggior testa e pensanti e non esiste più. Fa parte un po' di un'ideologia che se vogliamo con l'ultimo mandato elettorale abbiamo visto che è venuto meno. Questo d'altra parte ha fatto sì che il nostro sindaco non è riuscito a qualizzare la sua maggioranza, tant'è che l'intento di rinnovamento che si era esplicato con la scelta di soggetti giovani alla prima esperienza è stato di fatto molto negativo perché lui non è riuscito praticamente a contenerli, i singoli individualismi sono emersi e non ha avuto soprattutto questa leadership di saper mantenere e equalizzare il gruppo perché non è un'incapacità, non è abituato al confronto, cioè la formazione verticistica del partito che ha caratterizzato la forma mentis di un sindaco Buschi come magari di altri esponenti del PD non consentiva confronti perché tutto è in questo contesto il partito democratico fuorché democratico quindi logicamente non essendo abituato a dei confronti e anche a delle criticità praticamente lui si è trovato veramente molto in difficoltà. Possiamo dire che questa fusione fredda tra i due partiti più importanti d'Italia PD e PDL inizia un attimo ad entrare in crisi le varie anime del PD si confrontano giornalmente e lo fanno attraverso i candidati alle primarie il PDL si è di fatto spaccato alcuni giorni fa anche a livello nazionale lei ha fatto una scelta politica precisa, quella di iniziare un percorso in un partito diverso che quello di Fratelli d'Italia questo però alla fine non genera confusione, non genera conflitti interni, non crea ingovernabilità anche a livello locale Allora se la domanda è praticamente la risposta a queste strutture verticistiche anche praticamente a questi due poli di fatto prima o poi comunque sarebbe dovuta manifestarsi nel senso che le varie anime vengono fuori la natura del PDL noi ricordiamo bene che comunque sia era la fusione di due anime che se vogliamo provenienti anche da da due storie diverse da storie completamente diverse cioè gli ex AN con Forza Italia che più che altro erano di provenienza appunto anche socialisti tantissimi socialisti ma tanti anche ex democristiani eccetera così come il PD c'erano praticamente tantissimi ex democristiani Margherita e altri che naturalmente avevano praticamente una storia molto più ortodossa sotto il profilo praticamente della sinistra reale Possiamo dire che la vecchia sinistra democristiana ha confluito nel PD la destra democristiana ha confluito nel PD Quindi voglio dire è logico che poi naturalmente nelle contingenze anche economiche e sociali e storiche praticamente le anime vengono fuori ma anche perché fa parte un po' della natura naturalmente delle persone Questo come si è... che conseguenza ha avuto nell'ambito del governo locale? Cioè il Fabio Muspil, il sindaco di San Giustino paga le divisioni interne al suo partito? Molto le paga ma non tanto per quanto riguarda, dico la verità, una divisione tra renziani e berzaniani Perché qui da noi ecco al di là delle vecchie, delle recenti primarie che ci sono state Renzi vedo che non ha attecchito in maniera anche perché onestamente forse, questa è una critica mia ma credo che sia apparso come uno di quei fulmini molto brevi che magari lì per lì rimaneva impresso per la capacità comunicativa a differenza di berziani forse anche per una sembianza di concretezza che poi dopo non credo che sia sostanziale Ecco, classico toscano fumoso secondo me che non è... Quindi lei dice invece? Quindi secondo me invece lui ha subito soprattutto la guerra tra proprio singole individualità cioè mi spiego la sete di un assessore piuttosto che un altro oppure la frustrazione del capogruppo che magari non ha avuto nessuna delega sono tutte forme di animosità individuali che fanno parte anche voglio dire magari potrebbero essere anche concepite in maniera normale ma che lui non ha saputo contenere e quindi questa è una grossa incapacità Può essere anche visto come, mi scusi se la interrompo come magari invece che correnti interne al partito, correnti interne a paesi o al capoluogo Sì, senz'altro Magari gli interessi del capoluogo non si sposavano con gli interessi delle frazioni Ma, senz'altro Dopo ecco c'è stata questa ultima scelta di attribuire le deleghe a questi due soggetti che secondo me è stata una scelta un po' avventata anche perché di fatto loro si sono dovuti praticamente non possono non sottrarsi alle scelte errate della giunta Buschi quindi hanno dovuto subire, forse non capendo perché è stata una scelta un po' avventata anche da parte loro che io avrei rifiutato completamente perché a questo punto poi per un prosieguo politico ecco, non so quanta possibilità anche della sua coalizione che sta avendo e subendo frizioni interne importanti chiudendo con la stretta cronaca attuale che cosa è successo nell'ultimo consiglio comunale perché c'è un passaggio del comunicato congiunto Veschi-Leonardi in cui si cerca di far capire il problema tra il consigliere Magrini e Fabio Buschi su una scelta di non votare un preciso documento del bilancio Beh, forse è stata, cioè naturalmente questa condotta, insomma questa circostanza era un pochino già frutto di una serie di provocazioni che venivano da prima però si è impegnato all'interno dell'ultimo mandato quindi avrebbe magari forse voluto anche dei riconoscimenti ufficiali che non ha avuto ma questo sempre per motivi interni loro che sono difficilmente in effetti comprensibili da chi sta all'esterno comunque poi alla fine appunto questo partito che docet ecco siamo arrivati proprio agli sgoccioli e naturalmente emerge in tutta la sua pienezza l'incapacità dell'assunzione proprio verticistica sì, in effetti praticamente Magrini si è astenuto in questa scelta di variazione del bilancio che prevedeva la destinazione di alcuni fondi per la sistemazione delle gradinate dello stadio di lama e in favore di un'associazione scelta che secondo praticamente il capo Magrini si è astenuto contestando la scelta soprattutto sotto il profilo formale cioè contestando soprattutto un mancato confronto eccetera però nella sostanza lui credo che contrastasse anche sotto il profilo sostanziale e quindi poi un aspetto non indifferente è che all'ultimo consiglio comunale in effetti mancavano ben cinque esponenti quindi questo qui vediamo proprio il disinteresse totale ma forse non sappiamo è una scelta che comunque era giustificata soltanto per due membri della maggioranza gli altri tre in realtà non erano neppure assenti giustificati quindi probabilmente erano indotti a non approvare determinate appunto situazioni allora su alcune scelte anche la minoranza si è divisa è notizia ormai di alcuni mesi fa in lato il gruppo Vivere San Giustino che fa parte della minoranza però è un gruppo Per quale motivo non c'è stata più la spinta di fare le cose insieme nello stesso partito, nello stesso contenitore che era il PDL? Ma se uno analizza bene i verbali anche di tutti i consigli comunali che ci sono stati negli ultimi cinque anni possiamo notare che non sempre la minoranza comunque ha condiviso delle scelte politiche ma io questo comunque sia non lo vedo come un aspetto negativo sinceramente in questo noi ci siamo sempre distinti da chi alza passivamente la manina senza capire neppure come hanno fatto quelli della maggioranza di che cosa si stava parlando e quindi fa parte un pochino delle criticità che comunque ci devono essere dei confronti che ci devono essere magari certe discussioni non le avevamo anche affrontate in sede nostra, privata, insomma però è condivise abbiamo anche condiviso comunque la decisione di una spaccatura tra virgolette perché d'altra parte anche classificarsi come destra, sinistra oppure come una coalizione piuttosto che un'altra in effetti per alcuni di noi comunque poteva sembrare un po' troppo limitante quindi in una prospettiva anche futura abbiamo anche condiviso questa scissione che comunque è stata una scissione condivisa non è stata una scissione che ci ha spaccato intendiamoci bene forse dall'esterno magari questo non è stato ben compreso e questa è la critica che forse io ho fatto però voglio dire noi ci siamo sempre comportati in maniera civile io dico la verità con tutte le diversità che ci possono essere devo dire che sotto il profilo umano per me è stata una bellissima esperienza perché abbiamo avuto sempre un confronto sano anche magari arguto in determinate situazioni però mai di separazione cioè il confronto c'è stato peggio è quando non c'è quindi di fatto questa divisione se vogliamo tra virgolette è stata una scelta condivisa di coloro che comunque concepiscono ormai anche giustamente diciamo un futuro politico che prescinde dalle coalizioni cioè parlare di destra o di sinistra in realtà oggi soprattutto in un contesto di amministrazione locale è un po' obsoleto e questo lo condivido anch'io perché di fatto anche le nostre scelte le nostre emozioni non sono mai state orientativamente di destra noi abbiamo fatto quello che ritenevamo opportuno in favore della collettività a prescindere certo dopo magari se tu mi parli se tu mi proponi degli ordini del giorno che sono secondo me proprio non assolutamente neppure discutibili perché sono orientativamente ad esempio quelli di Manfroni è logico che lì viene fuori la politica se no in effetti la politica vera la politica intesa come appunto gestione verticistica, partitica non c'è stata neppure da parte della miglioranza perché abbiamo sempre ascoltato un po' tutti si guardano più gli aspetti concreti cioè voglio dire quando uno parla di strade quando uno parla di illuminazione cioè la politica non viene fuori viene fuori degli aspetti marginali allora voglio tornare un po' indietro all'inizio di questa conversazione all'inizio di questa intervista mi sembra di capire e questo lo noto sia per quanto riguarda il PD sia per quanto riguarda il PD e il centrodestra che nessuno è più disposto a metterci la faccia nel fare il primo cittadino di questo comune ma anche di altri comuni c'è la paura di doversi confrontare con una situazione talmente tanto grave talmente tanto critica che forse non ne vale più la pena concorda? a me dispiace però in effetti è una una constatazione reale d'altra parte se noi verifichiamo forse Buschier è stato indotto nella sua scelta anche sotto il profilo economico perché comunque sia per lui ha rappresentato un'attività lavorativa vera e propria e quindi motivato anche sotto questo aspetto non per altro ma perché ha scelto proprio di dedicarsi alla politica come attività lavorativa pur in un contesto praticamente locale quale è quello appunto comunale però ha fatto questa scelta e sicuramente la motivazione poteva stare anche in questa forma questa mentalità che adesso comunque sia non è più favorevole neppure appunto immaginabile visto la precarietà anche delle varie situazioni insomma uno cerca comunque di gestire le cose in maniera appunto diversa poi che non sia neanche proficuo perché a livello locale insomma non si può pensare più di investire di individuare in una forma di investimento economico appunto la politica non è assolutamente proficuo anche perché le motivazioni poi dopo reali e sociali vengono meno parliamoci chiari allora dunque per tanti motivi sia perché credo che per quanto riguarda la nostra da noi storicamente è sempre stato difficile trovare dei candidati che avessero avuto il coraggio praticamente di esprimersi di poterlo fare perché perché logicamente Sporsi a destra oppure una coalizione di centro-destra sappiamo benissimo che comunque portava naturalmente tutta una serie di svantaggi che ci vuole appunto un determinato coraggio proprio perché magari che esercitava un'attività per conto suo oppure chi cioè faceva una determinata attività pensava nel timore anche forse sbagliato comunque c'era di non potersi appunto di non potersi esporre perché c'era questo condizionamento se noi ricordiamo voglio dire cioè le persone di centro-destra erano ghettizzate fino a poco tempo fa non lo dico in una maniera così utopistica concreta quindi c'è sempre stata questa mentalità e poi perché comunque sia di fatto rappresenta un impegno un impegno che se uno lo assume naturalmente deve anche portarlo a termine e quindi non tutti hanno né la voglia né il tempo né appunto il coraggio di poterlo fare per quanto riguarda i nostri candidati centro-destra per quanto riguarda il centro-sinistra è venuto meno l'aspetto economico perché comunque si sono ridotte le risorse perché di fatto per loro rappresentava veramente una forma di sostanziamento d'altronde un lavoro gli ultimi sindaci l'hanno dimostrato perché anche la Follane è andata in aspettativa voglio dire per due mandati lei dice rappresentava un lavoro rappresentava un lavoro quindi è venuto meno il sostentamento che è sostanzialmente rappresentato dal depauperamento delle risorse per vari motivi si cercano altre strade e poi anche forse perché le varie teste di legno ormai si sono anche un po' stufate quindi essere manovrati dal partito vi ste considerate le ultime evoluzioni a livello regionale locale con tanto di ex presidenti di regione e membri appunto del consiglio che voglio dire stanno affrontando per lo meno delle situazioni veramente molto gravi sotto ogni profilo non credo che ci sia la volontà anche di metterci la faccia in un contesto politico dove si è fatto della moralità un balzello mentre a questo punto sono emerse tutte praticamente le situazioni più che erano occulte tra virgolette ma che esprimono praticamente è un contesto clienterale talmente radicato e del tutto immorale c'è chi dice che Luciano Aveschi non ha intenzione di ricandidarsi sindaco alle prossime elezioni ma io personalmente è una scelta che comunque sia deve essere valutata oggi posso dire che non sono nelle condizioni di poterlo fare perché comunque ho delle difficoltà quindi al momento lei esclude la sua candidatura ma io cioè è una scelta che comunque sia siccome anche quando ho deciso la prima volta è stata una scelta abbastanza meritata e credo perlomeno con tutti i miei limiti perché è stata la mia prima esperienza politica però di aver potuto partecipare a tutti i consigli comunali fino adesso alle commissioni eccetera in maniera puntuale quindi io ritengo che se uno fa questa scelta deve essere anche in grado di poterla mantenere con serietà motivi ideologici personali motivi professionali proprio mancanza di tempo cioè il lavoro la porta purtroppo a decidere di fare un passaggio adesso mi creerebbe comunque delle scelte organizzative che per adesso non sono in grado di poter affrontare quindi soprattutto quello ma ideologici perché di fatto comunque io non è che vengo da non c'è una provenienza non sono nata politica tra virgolette quindi voglio dire non ho limitazioni in questo tipo oggi ecco mi sentirei veramente in difficoltà ora vediamo insomma se magari riuscirò ad ovviare problemi appunto contingenti che ho nel mio lavoro però d'altra parte io dovrò lavorare anche comunque quindi non è che posso cosa le lasciano questi oramai quasi cinque anni di esperienza politica nel parlamentino san giustinese io dico la verità con tutte le amarezze magari delle discordie che ci sono state perché comunque sia quando tu esci dai consigli comunali estremata perché magari hai urlato fino alla fine perché io poi comunque sono molto animosa insomma chi mi conosce lo sa con tutte le discordie anche i confronti che ci sono stati sotto il profilo umano ripeto è stata una bellissima esperienza impegnativa perché comunque sia è stata un'esperienza impegnativa però mi ha permesso comunque di di ecco di inserirmi in un contesto che per me è stato un contesto del tutto nuovo anche di conoscere le reali difficoltà di una comunità che è andata via via purtroppo dal 2009 quando mi sono insediata io ad oggi sempre peggiorando perché le risorse comunque sia non ci sono quindi conoscere con mano quelle che sono le difficoltà economiche che hanno che noi abbiamo dovuto tutti subire e in questo percorso di cinque anni cinque anni sono tanti indubbiamente quindi sotto il profilo personale io dico per me è stata un'esperienza molto positiva sotto il profilo politico ecco ho visto proprio un declino un declino ma io devo dire che sono sempre stata un pochino riluttante fin dall'inizio perché avevo visto che cosa è una spinta a scendere in campo perché ce lo siamo fatti tutti infatti infatti devo dire che sicuramente voi forse è stata anche una sfida mia insomma a livello personale ogni tanto mi piace anche un po' rinnovarmi mentalmente quindi un pochino di stimoli perché sennò veramente e poi anche perché io fondamentalmente sono di natura estremamente portata al sociale quindi insomma chi mi conosce lo sa certe volte magari sono anche molto dispersiva però sono molto portata ad ascoltare a insomma a difendere e quindi praticamente anche ad una visione un pochino ecco altruistica cioè per me alla fine che poi magari mi dedicherò al volontariato ecco io devo avere nella mia cioè come persona devo avere una probabilmente c'è una forte vocazione praticamente alla solidarietà quindi anche sotto il profilo di volontariato quanto ha inciso in questa sua attuale decisione che ci sembra comunque una decisione già presa il non aver potuto rispondere a pieno perché di questo accusano anche la minoranza il non poter aver dato risposte concrete ad imprese e cittadini in difficoltà allora innanzitutto praticamente per quanto riguarda l'aspetto economico locale dunque innanzitutto è bene sottolineare un aspetto che chi è all'opposizione sostanzialmente non può essere propositivo nel senso lo può fare quando è consentito quando non è consentito non si può essere propositivi perché io sono propositivo scusami tanto cioè no se io avessi avuto dei poteri comunque sia di gestione e anche decisionali io giustamente vorrei esserlo propositivo però la mia funzione è stata soprattutto di controllo anche di contrasto anche se vogliamo di trovare appunto dei punti d'incontro perché ci sono stati dei momenti in questi cinque anni in cui noi abbiamo cercato di lavorare insieme per o nell'interesse di non è stato facile perché comunque sia molto spesso non c'era un'intera di intenti è ovvio che non sempre può esserci in alcuni casi c'è stato quindi magari l'abbiamo intrapreso però la propositività spetta comunque a chi ha avuto dall'elettorato giustamente la legittimazione perché io comunque sia nel rispetto del mio elettorato però non ho la legittimazione per poter decidere quindi insomma c'è sempre una bella differenza tra opposizione e maggioranza le responsabilità della maggioranza per questo non devono ricadere sulla minoranza perché questa è una visione un po' distorta poi io credo che criticare è sempre facile però onestamente a parte i primi consigli comunali non ho visto nessun tipo di partecipazione da parte della collettività e questo se vogliamo è anche molto grave è un indice proprio di disinteresse perché se uno giudica sui comunicati stampa allora io posso dire che grazie a te ho avuto voce così come tutta la mia coalizione ma noi avremmo avuto riscontro soltanto sull'1% o 2% dei comunicati stampa che abbiamo inviato alle redazioni locali che evidentemente devono rispondere ad altri appetiti perché se no non si spiega a quasi tutte le redazioni locali perché la nostra redazione no infatti tu hai detto a parte te ecco quindi giudica come si giudica il lavoro della minoranza mi devi spiegare come un cittadino la può giudicare allora la può giudicare interessandosi partecipando ai consigli comunali verificando i verbali le commissioni cioè io giudico l'operato di un'amministrazione sulla minoranza e maggioranza su un controllo dopo aver controllato quello che questi hanno fatto abbiamo pochissimi la voce la voce noi a livello di stampa non ce l'abbiamo avuta che sia chiaro questa è una critica che ho sempre espresso e anzi adesso con grande amarezza la ribadisco perché veramente il contentino della fresettina è giusto per dare appunto la minima soddisfazione certamente non è esaustiva di un lavoro di cinque anni che penso sia stata l'unica opposizione che non ha avuto riscontro perché io ho visto che Umbertide per dire nonostante tutto anche a livello elettorale i risultati che magari erano in un contesto del tutto particolare come Umbertide un po' inferiore rispetto ai nostri hanno avuto molto più risonanza all'interno dell'opinione abbiamo quasi terminato dovrebbero esserci tre minuti a disposizione lei ha parlato di mancata partecipazione ai consigli comunali della cittadinanza allora io voglio tornare indietro in questi cinque anni ce ne sono stati almeno un paio selci estremamente partecipati il risultato è stato non creare le basi per un dialogo con chi era venuto a parlare a disporre dei propri problemi questo è l'atto di accusa che la cittadinanza fa a tutto il parlamentino destra centro e sinistra però se ben ricordiamo questi consigli comunali aperti sono stati proposti dalla minoranza quindi li abbiamo richiesti noi sono stati forse gli unici consigli comunali aperti che noi abbiamo avuto quindi questo è un merito che non possiamo disconoscere da parte della minoranza poi dopo noi credo che per quanto riguarda la comunità di selci voglio dire siamo stato forse l'unica coalizione che è stata in grado di ascoltarli perché poi dopo nelle decisioni finali come il senso unico o altre scelte appunto di indirizzo non abbiamo avuto voce in capitolo la espressione il risultato di questi consigli comunali ha manifestato l'incapacità non l'incapacità l'impossibilità della minoranza di poter decidere perché allora la proposta e l'iniziativa proveniva da noi però come nonostante ci sia stata questa possibilità di ascoltare la gente che comunque vive all'interno di questa comunità a selci come avete visto poi dopo alla fine la maggioranza ha deciso come ha voluto sottolineando certe scelte come decisioni politiche in realtà la politica proprio non ha niente a che vedere col senso unico di selci ecco ma se selci purtroppo il tempo è terminato e quindi la richiamerò per parlare nello specifico anche di altri problemi da oggi emerge che probabilmente la politica san giustinese perde un personaggio che magari in questi anni si è speso si è speso senza chiedere e pretendere nulla in cambio e questo purtroppo è a nostro dire un qualcosa che si farà sentire se Luciano Aveschi non sarà nel prossimo parlamentino probabilmente mancherà quella spinta propositiva che l'ha contraddistinta nel corso di questi cinque anni io ti ringrazio Michele certamente voglio dire ripeto come esperienza è stata positiva per me però certamente non sempre quando uno poi fa del bene viene apprezzato quindi questo è senza mi risponda con un sì o con un no lo rifarebbe ma sicuramente sì 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 io non mi sono pentita perché comunque sì è stata una bellissima esperienza che mi ha arricchito anche sotto il profilo umano bene il tempo a nostra disposizione è terminato io ringrazio Luciano Aveschi capogruppo del centro-destra per San Giustino grazie a voi Terra della Valtiverina torna la prossima settimana sempre su TRG2 canale 211 sempre alle ore 21 grazie a voi